L'Associazione Europa 2000, in collaborazione con il Comitato Nazionale Italiano per i Fair Play, Agisport e di Pianeta Donna, ha presentato nell'Aula Consigliare del Comune di Monte Calvo, Irpino, due progetti, Campioni di Fair Play, Uomini ed Eroi, e Fair Play Ateneum per l'editoria e la cinematografia sportiva. Nell'ambito del progetto Uomini ed Eroi è stato premiato il giornalista Silver Mele, autore del libro Il Volo del Gregario e figlio del famoso ciclista, campione degli anni 60, Luigi Mele, entrambi presenti alla manifestazione. È la storia di un sogno, di un bambino, di un figlio, di una famiglia emigrata a Torino da Caserta nel 49 che si ritrova a dover combattere con un mondo poco conosciuto e anche poco amichevole nei confronti dei meridionali che abbandonavano la propria terra per cercare fortuna al nord. Questa rincorsa incomincia a colpi di pedale e alla fine Gigi Mele, che è il protagonista della storia, diviene anche campione piemontese per passare professionista e correre tre volte il Giro d'Italia, quello che era poi un po' il suo sogno, poter passare di nuovo davanti al paesino, sulla strada statale Casilina, davanti ai propri compaesani e salutarli. Che cosa le rimane della sua esperienza ciclistica? Mi rimane quella di andare a vedere i corridori moderni correre queste grandi corse e poi il ricordo non svanisce mai. Sono sempre aggiornato, anche se la mia veneranda età mi dice di stare a riposo. Nel corso della manifestazione sono stati consegnati anche altri premi ed è stato presentato il Festival della Cinematografia Sportiva patrocinato dalla Regione Campania, che nel prossimo mese di luglio si terrà proprio a Monte Calvo Irpino, nella splendida cornice del Palazzo Ducale. Un grande evento di spessore nazionale che prevede mostre, esposizioni, convegni, proiezioni e la presenza di autorevoli personaggi del mondo della cinematografia e del giornalismo sportivo, come quella di Federico Buffa di Sky.